Animali d'affezione. La loro tutela rappresenta una priorità sancita da leggi nazionali ed internazionali. Così il consigliere regionale Sandro Bisonni, nel corso della conferenza stampa che si è svolta a Palazzo delle Marche, per denunciare quanto sta avvenendo in questo ambito nella regione. Il 16 giugno scorso, infatti, cinque consiglieri del PD, uno di Uniti per le Marche, uno di Popolari Marche Unione di Centro e uno di Forza Italia, hanno presentato una proposta di legge che, se trasformata in legge, farebbe fare alle Marche un salto a ritroso nel passato. La proposta firmata dagli otto consiglieri riammette l'uso della catena, riduce il tempo da 90 a 60 giorni, prima del quale è vietato separare i cuccioli dei cani dalla propria fattrice, aumenta inoltre il tempo di detenzione degli animali in gabbia in caso di soste da una a due ore. Questa proposta di legge prevede il ritorno alla catena degli animali, un passo verso il Medioevo più che verso il futuro. Poi, nella stessa proposta, si prevede di togliere i cuccioli di cani dalla propria madre entro 60 giorni e non più entro 90, quindi c'è una riduzione del tempo e è previsto l'utilizzo della gabbia aumentandolo da un'ora a due ore. Quindi è tutta una proposta che va nella direzione opposta a quella in cui l'Europa e il mondo si stanno muovendo. Ricordiamoci che gli animali sono degli esseri senzienti e non sono degli oggetti, e quindi non possiamo trattarli come oggetti. Ci vuole più rispetto, dobbiamo imparare a amare gli animali e a trattarli come meritano. Il DDL cui tengo di più è il 1482, è un testo unico, un codice di tutela degli animali, dove tutta la normativa, dalla sperimentazione animale alla gestione degli allevamenti, alle norme che riguardano il randagismo, l'anagrafe nazionale fellina e canina, la riduzione dell'IVA nelle prestazioni sanitarie animali e nei farmaci animali, praticamente tutto ciò che riguarda la tutela degli animali, il modo di gestire il rapporto con gli animali, le problematiche annesse agli animali, nell'ottica di quella famosa dichiarazione del 78 dell'UNESCO, che ha appunto dichiarato gli animali come esseri senzienti. È un'iniziativa che porta a conoscenza di tutti i cittadini delle Marche, di quello che sta avvenendo in Consiglio regionale. C'è una proposta che ci riporta al Medioevo, quando i diritti degli animali non venivano considerati rispetto ad altri interessi, che potrebbero essere quelli della caccia, quello dell'allevamento. Oggi diciamo che non possiamo andare contro quelle che sono le regole europee, le regole nazionali, e quelle che chiaramente da sempre i Verdi, voglio ricordare che nel loro statuto, hanno la tutela degli animali come primo principio fondante di questo movimento, di questo partito. Quindi questa mattina non facciamo che ribadire la necessità che è riconosciuta non solo dai Verdi, perché questa proposta va ritirata. Penso che i cittadini debbano conoscere chi sono i proponenti e chi praticamente vogliono violare i diritti degli animali, perché riportare gli animali in catena, riportare gli animali in gabbia, riportare vecchie pratiche che ormai sono in disuso in tutta Italia, è una violazione incredibile.